Ma non avete sentito quello che abbiamo detto? Non è che possiamo cambiare versione, non è che cambiamo versione. Abbiamo concordato di fare così perché... A noi piacciono i posti fissi, in questo saremo rimasti arretrati, lo preferiamo. Noi siamo per la monotonia, anzi vorrei fare un'altra battuta un po' più perfida, che non è mia, che ho letto da qualche parte. Dice che se il lavoro fosse una virtù o un vantaggio, i ricchi lo avrebbero tutti per loro. Quindi la monotonia non mi preoccupa? No, a noi ci preoccupa quell'altro, lo stress non la monotonia.